Caso sospetto di vaiolo delle scimmie a Caltanissetta, che qualora venisse confermato rappresenterebbe il primo episodio nella nostra città. Intanto i medici del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sant'Elia hanno chiesto una consulenza infettivologica al Policlinico di Palermo per stabilire con precisione la natura della patologia. Il caso riguarda un giovane poco più che trentenne, che si è presentato al pronto soccorso con una serie di lesioni in varie parti del corpo e che presentava anche mal di testa e dolori articolari. Saranno adesso gli accertamenti a chiarire se si tratti o meno del primo caso accertato di vaiolo delle scimmie in città.